Il mondo scoprirai, molte cose imparerai, Blippi! Ciao! Sono io, Blippi! Wow! Lo sapete? Siamo all'Up Town Jungle Fun Park di Las Vegas, Nevada! Sono emozionato, ci divertiremo e faremo tante cose! Qual è il modo migliore di allenarsi se non giocare? Forza! Wow! Guardate che posto! Così bello! Non vedo l'ora di giocare! Ma prima devo avere le calze antiscivolo! Già! Sono appiccicose! Oh bene! Le ho già addosso, guardate! Wow! E ora giochiamo! Guardate le corde! Ehi! Dondolare in questo modo sulle corde mi fa sentire come una scimmia! Perché non fate la scimmia insieme a me? È divertente! Wow! Guardate qua! È un muro ricoperto di mattoni colorati! Oh! Alcuni sono verdi! Altri blu! Altri rossi! Wow! Altri di colore giallo! Wow! Sì, facciamo una cosa grandiosa! Wow! Ma prima di iniziare a costruire, dobbiamo tirarli giù dal muro! Wow! Cosa costruiamo con i mattoni? Possiamo costruire una casa! Oh! Un mattone, due mattoni, tre mattoni! Wow! Scommetto che possiamo farla più alta! Wow! Guardate! Abbiamo fatto una torre altissima! Wow! Oh! Ehi! Guardate qua! Ci sono dei piccoli biglietti di carta! Chissà cosa c'è scritto! Uh! Si tratta di un gioco! E il primo biglietto dice... Trova qualcosa che sembri un cerchio! Allora troveremo un cerchio! È molto facile! Diamo un'occhiata! Wow! Qui ci sono cerchi dappertutto! Wow! Guardate un po' questo cerchio! Oh! Somiglia a una deliziosa ciambella! Questo è un cerchio, ma le ciambelle hanno anche un buco! È un piccolo cerchio! E... A sopra dei pallini è ricoperto di piccoli cerchi! Un cerchio, in un cerchio, ricoperto di cerchi! È fatta! Trovato l'oggetto del primo biglietto! Hmm... Chissà cosa dice il secondo! Il secondo biglietto dice... Trova qualcosa su cui puoi arrampicarti! Ok! Esploriamo un po'! Oh! Wow! Ehi! C'è qualcosa qui per arrampicarci? Ci sono tantissimi muri d'arrampicata! Già! Io adoro arrampicarmi! Hmm... Su quale mi arrampico per primo? Wow! Ecco, questo è fatto di corde! Deve essere bello salirci sopra! Wow! Guardate questo! Wow! È coloratissimo! È verde e giallo e... Rosso e nero! Penso che mi arrampicherò su questo! Ma prima... La sicurezza! Ecco un'imbraccatura! Già! Quando vi arrampicate ci vuole l'imbraccatura! Già! Ora che ho l'imbraccatura non devo fare altro che... Ecco... Agganciarmi alla corda! Già! La corda è davvero molto importante! È un... Dispositivo di sicurezza! Oh! Wow! È una parola lunga! I dispositivi di sicurezza sono importantissimi perché... Se scivolate o... Volete riposare oppure avete... Le braccia stanche! Potete farlo! E con il dispositivo di sicurezza potete scendere di nuovo a terra! Ok! Non vedo l'ora di scalare questo muro! Agganciamoci! E siamo pronti a salire! Wow! Siamo arrivati fino in cima! Woohoo! E ora possiamo scendere con il dispositivo di sicurezza! Si va! Weee! Wow! È stato davvero divertente arrampicarsi! Ok! Ora vediamo che dice il prossimo biglietto! Ok! Dice... Trova qualcosa su cui poter saltare! Io so su cosa possiamo saltare! Andiamo! Wow! Ora dobbiamo trovare qualcosa su cui poter saltare! E so bene cosa ci serve! Un tappeto elastico! Woohoo! I tappeti elastici sono divertentissimi! Woohoo! Wow! Wow! Potete fare piccoli salti come un coniglietto! O dei salti davvero grandi come un canguro! Woohoo! Haha! Woohoo! Ehi! Ho un'idea! Che ne dite di contare quante volte saltiamo? Ok! Partiamo! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci! Woohoo! Uh! Però abbiamo saltato tanto! Dieci salti! Woohoo! Uh! Beh! Scopriamo qual è la prossima cosa da fare! Ok! Vediamo cosa dice! Cerca qualcosa su cui scivolare! Vediamo di trovare la cosa perfetta su cui scivolare! Forza! Woohoo! L'abbiamo trovato! Qualcosa su cui scivolare! Uh! Questo scivolo giallo sembra molto ripido, ma molto divertente! Forza! Scivoliamo! Siete pronti? Tre! Due! Uno! Via! Woohoo! È stato davvero incredibile! Ora vediamo che cosa dice il prossimo biglietto! Trova qualcosa di rosso! Hmm! Abbiamo trovato tante cose e ora qualcosa di rosso! Hmm! Dobbiamo metterci a cercare! Forza! Wow! Guardate! Una scala orizzontale e una ruota! Wow! Non abbiamo ancora visto il colore rosso! Haha! Beh, questi sono verdi! Mentre la ruota e il percorso... Neri! E gialli! Ma... Niente rosso! Teniamo gli occhi aperti! Wow! Hmm! Ancora niente! Per caso voi vedete qualcosa di colore rosso? Wow! Già! Ottimo lavoro! È un tunnel rosso! Uh! È tutto ricoperto di corde rosse! Ci vediamo dall'altra parte! A presto! Wow! Si rimbalza un sacco! Wow! Wow! Oh! Wow! È stato divertentissimo attraversare il tunnel rosso! Ma... C'era sta ancora un biglietto! Vediamo cosa dice! Trova un posto per ballare! Ma si può ballare dappertutto! Ehi! Dai! Balliamo insieme! Balla, 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 balla! Tu potrai cantare, ballare e poi non fermarti e fai tutto quel che vuoi! Energia, allegria, sentirai che magia! Balla, 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 dai! Balla, 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 dai! Saltiamo più su! Poi agitiamo le mani sempre più! Partiamo da qui e poi verso il cielo! Balla per il mondo intero! Balla, 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 balla! Andiamo! Balla, balla, balla! Tu potrai cantare e ballare poi Non fermarti e fai tutto quel che vuoi Energia, allegria Sentirai che magia Balla, 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 dai 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 Dai, canta insieme a me Noi balleremo sempre insieme a te Corri un po', non fermarti Ora ti divertirai Balla, 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 andiamo Balla, 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 dai Tu potrai cantare e ballare poi Non fermarti e fai tutto quel che vuoi Energia, allegria Sentirai che magia Tu potrai cantare e ballare poi Non fermarti e fai tutto quel che vuoi Energia, allegria Sentirai che magia Tu potrai cantare e ballare poi Non fermarti e fai tutto quel che vuoi Energia, allegria Sentirai che magia Balla, 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 dai Balla, 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 dai Balla, 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 dai Balla, 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 dai Balla, 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 dai Ciao, ciao, ballerini È stato davvero divertente wow! mi sono divertito tantissimo oggi all'uptown jungle fun park di las vegas nevada beh, siamo alla fine del video ma se volete vederne ancora altri vi basta solo cercare il mio nome ehi! facciamo lo spelling del mio nome? ok! b-l-i-b-p-i blippi! ottimo lavoro! beh, a presto! ciao alce! oh, ehi! ciao, sono io, blippi! guardate qua questo è un alce gigante e oggi voi e io siamo al Northwest Track di Etonville, Washington e vedremo tantissimi animali straordinari! magari vedremo un alce! sono così contento! andiamo! ciao, ciao alce! wow! guardate un po' questo impressionante fuoristrada cospita è troppo forte! è su questo che voi e io faremo il giro andiamo a studiarlo per assicurarci che sia sicuro guardate! sono ruote pneumatiche davvero grandi wow! guardate che battistrada! è un battistrada molto grande per i difficili percorsi che faremo! già! wow! guardate quella lassù? quella che vedete è alla tettoia! quindi nel caso che piovesse noi non ci bagneremo! è una specie di ombrello ma per i veicoli! molto bene! andiamo a vedere dentro! wow! ehi! guardate questo? pronto! pronto! northwest track! qui a Blippi! posso venire per il tour? ho ricevuto Blippi! hai via libera per il tour! d'accordo! sentito? siamo pronti a iniziare il tour! bene! prima però dobbiamo finire il tour del veicolo! d'accordo! guardate un po' qua! questo è il serbatoio in cui si mette la benzina! già! bene! direi che è pieno! fatto! ora andiamo sul retro del veicolo! wow! avete visto? wow! ci sono un sacco di posti a sedere qui! wow! è davvero stupendo! mi siederò proprio qui così potrò avere una vista panoramica di tutti i simpatici animali che stiamo per vedere! andiamo! wow! wow! vedete quegli animali? quelli sono uapiti! ehi! guardate quello lì! quello ha dei grossi palchi! quello lì è un maschio e tutte le altre sono femmine! ci vediamo dopo! oh! sembra stiano giocando! ciao! andiamo a scoprire tutti gli altri animali che ci sono qui in giro! wow! guardate là! quello è un bisonte! wow! e vedete che ha una pelliccia! su una parte della schiena? sì! certo! una pelliccia molto corta e una pelliccia più lunga! e la pelliccia lunga si chiama mantello! già! vuol dire che questo bisonte è un maschio! wow! questo bisonte è così grande che pesa almeno quanto una piccola auto! wow! è molto divertente essere al northwest trek! wow! vedete quell'animale? quello è un alce! posso capire facilmente che quello è un alce da quella cosa che ha sotto il suo mento! viene chiamata campana! wow! e c'è un altro alce laggiù! ciao alce! ehi alce! vedete come sta muovendo le orecchie quell'alce? già! hanno orecchie molto grandi! probabilmente devono sentirci bene ovvio! vediamo! ciao alce! ciao! ehi! ho parlato molto piano e lui mi ha sentito! wow! guardate quegli animali! quegli animali sono grosse pecore con le corna! vedete le corna? sì! se le guardate di lato sembrano quasi dei cerchi! wow! che belli animali! wow! è uno spasso qui! al northwest trek! stiamo scoprendo tanti animali! sono così carini! wow! vedete anche voi? ci sono tre capre proprio qui! ehi! voi e io le dovremmo contare! una, due, tre! già! tre capre bianche! oh! sono così carine! ciao capre! ehi! oh! 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 ho visto? due vanno via! tre meno due fa una! ma sono ancora lì! quindi sono tre! che buffo! wow! che forza! quel bisonte è grandissimo! oh! e quelle capre sono molto piccole! è davvero bello che queste due specie di animali vivano così vicine l'una all'altra e vadano anche d'accordo wow! il northwest trek è proprio un posto incredibile in cui vedere animali tipici di questa zona del nord ovest già! oh beh, dobbiamo proseguire perché abbiamo ancora molti animali da vedere andiamo! wow! vedete quegli uccelli? sono così grandi! quelle sono acuile calve vedete che quella lì ha il collo e la testa bianchi? già, quella è un'aquila adulta ma quella che vedete lì ha il collo e la testa più scuri il che vuol dire che è un'aquila giovane cioè ha 5 anni ed è giovane ehi, quanti anni avete voi? forte! wow! questa che vedete è l'apertura alare di un'aquila calva wow! ha un'apertura alare un po' più grande della mia wow! co! 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 wow! co! wow! vedete quell'animale? quell'animale è un procione wow! i procioni sono così carini! già, i procioni si possono trovare in tanti posti nella natura incontaminata e persino nelle città già, di notte io sento che la mia spazzatura si... si sta muovendo! e di solito è un procione che ero vista in cerca di cibo wow! wow! vedete quelli? sono dei piccolissimi pezzetti di cibo per un animale chiamato lontre di fiume sono così eccitato! oh! vedete quegli animali? quelle sono le lontre di fiume di cui parlavo prima e adesso stanno mangiando! wow! guardiamole meglio! ehi! eccole lì! wow! wow! sembrano davvero affamate le lontre di fiume possono immergersi fino a 60 piedi di profondità wow! sarebbero circa 20 metri una grande profondità guardatele! wow! quello è un ghiottone ha degli artigli molto affilati ha i denti taglienti e la mascella così forte che potrebbe tritare un osso wow! questi animali sono molto feroci sono feroci perché perché vivono nella natura selvaggia wow! che animali incredibili! wow! vedete quegli animali? già! quelli sono orsi e nello specifico degli orsi grizzly e sono gli orsi più grandi che vivono nel nord-ovest pacifico oh! sono così grandi e hanno un olfatto così sviluppato che possono fiutare il cibo anche a 20 miglia di distanza wow! sarebbero circa 32 chilometri è parecchio lontano ehi! ho un'idea facciamo che voi e io fingiamo di essere un orso? dunque ci mettiamo a quattro zampe ma quando sentite la musica vi dovrete alzare in piedi wow! e ruggire e ballare come un orso pronti? bene! facciamo gli orsi! wow! 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 è stato così divertente oggi al Northwest Track a Eatonville, Washington wow! di sicuro abbiamo imparato un sacco di cose sugli animali del nord-ovest pacifico è vero? già! mi è piaciuto tanto imparare con voi bene! siamo arrivati alla fine del video ma se volete vederne altri vi basta solo cercare il mio nome facciamo insieme lo spelling del mio nome? pronti? B-L-E-P-P-E Blippi! ottimo lavoro! d'accordo! ci vediamo presto! ciao ciao! ciao! ehi! sono io Blippi e oggi sono a DeFi palestra con tappeti elastici a Thumbwater, Washington sì! avete visto? mi sono attrezzato con le calze antiscivolo eh sì! così sono certo di non scivolare vedrete ci divertiremo un sacco perché oggi impareremo insieme l'alfabeto con parole inglesi che bello! wow! guardate questo posto è fantastico awesome! ehi! awesome comincia con la lettera A yeah! è divertente rimbalzare così in aria aspettate un attimo aria cioè air comincia con la lettera A yeah! wow! guardate come rimbalzo bene in aria rimbalzare bounce in inglese che inizia per B esatto A B wow! wow! state a vedere wow! wow! avete visto? era un backflip salto all'indietro wiii! wow! backflip comincia con la lettera B A B wii! wiii! guardate cosa c'è qua questa è una palla nera da pallacanestro sia black che basketball cominciano con la lettera B ahah! wow! wow! ho appena fatto canestro anche basket canestro comincia con la B wow! inizio a essere piuttosto stanco forse dovrei gattonare ahah! wii! sto gattonando ehi! crawl gattonare inizia con C A B C eh già C è la prossima lettera ah! wow! ehi! sto imitando un gatto cioè cat in inglese meow meow cat è un'altra parola che inizia per C ahah! wow! wow! guardate i tappeti che ci sono lì! quello è il campo da dodgeball ora ci vado caspita! a quanto pare avrò ben due avversarie che mi sfideranno a dodgeball qui dodgeball comincia con la lettera D è un gioco simile a palla avvelenata ah! 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 e come vedete bisogna colpire l'avversario oh! ok! allora forza si gioca! vedete loro sono in double team cioè in due contro uno un'espressione che inizia per D oh! oh! arrivano altre palle per voi sto schivando i loro tiri presto filiamocela wow! ricapitolando abbiamo imparato le lettere A B C e D cioè le prime quattro lettere dell'alfabeto quella che sto imitando è un'aquila cioè eagle che comincia con la E riuscite a trovare un altro animale che ha il nome con la stessa iniziale io l'ho trovato è molto grande e grosso è tutto grigio ha la proboscide e le zanne elefante cioè elephant altra parola che inizia per E wow! i tappeti elastici sono troppo divertenti wow! ehi! ecco la prossima lettera F perché fun divertente inizia per F wow! e adesso mi lascerò cadere in mezzo a questi bei cubi di gomma piuma gomma piuma e anche cadere foam e fall iniziano per F ah 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 è stato divertente ok adesso però vado lì dove c'è quella strana parete ehi! guardate un po' qua questa è una parete da arrampicata userò le mie mani nude e le mie dieci dita per afferrarmi a questi appigli in inglese grip afferrare inizia per G wow! ah 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 weee! mi sto arrampicando come un gorilla ah 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 wow! ah ah che divertente mi piace da matti imitare gli animali ehi! visto che parliamo di animali a tutti i gorilla piace appendersi in inglese hang mi sono appeso e hang comincia con la lettera H weee! ah beh sapete è proprio divertente imparare l'alfabeto con voi ehi! ciao! guardate qua questa sedia è una mano wow già hand cioè mano è un'altra parola che inizia con H sapete è molto divertente imparare tutte queste lettere con voi ehi! adesso ricapitoliamo dall'inizio finora abbiamo imparato A B C D E F G e anche H ok qual è la prossima lettera? I I cioè io adoro questo posto ah 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 wuhu I uh uh che caldo adesso vorrei dei cubetti di ghiaccio ice cubes già quelli sì che mi rinfrescherebbero oppure un igloo ah 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 Jay arriva con jump salto ah ah sì ok ah wow ehi un'altra parola che comincia con la lettera Jay è juggle fare il giocoliere con questi è dura ma ci provo lo stesso ah 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 non è stato niente male ehi andiamo di Laura sto imitando un animale avete capito di quale si tratta? ah ah beh ve lo dico io kangaroo cioè il canguro che in inglese comincia per k ah 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 wow guardate qua fingo di far volare un aquilone eh sì anche kite aquilone comincia con la lettera k e anche un'altra parola kick calcio ah 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 do calci a questi cubi di gomma piuma ah 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 ok oh ah ah uh ah ehi un momento la prossima lettera riassume davvero bene cosa penso di questo posto l è la l di love amore ah 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 lo amo e sono felice di essere qui wow e voi cosa amate invece? magari che so i vostri fratelli e sorelle o forse mangiare molta buona verdura o magari invece amate molto i vostri papà e mamma e magari amate anche il gelato ah 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 mi sto divertendo un mondo a imparare l'alfabeto insieme a voi e ora dai ricapitoliamo tutto a a b c d e f g h i j k l e la prossima lettera sarà m vai con la musica music io amo la musica perché mi fa muovere move wow 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 ah 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 wii Ehi, adesso vi parlerò di una cosa molto seria e importante Le persone grandi che vi conoscono mi hanno parlato parecchio di voi Mi hanno detto che siete molto bravi, cioè nice Sì, la prossima lettera è N E io sono molto fiero di voi perché siete buoni con la vostra famiglia e con i vostri amici Sì, complimenti, continuate così Sì, va bene Però adesso è il momento di rifare un bel salto! Woohoo! Oh! Oh! Wow! Oh! 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 No! Sono bloccato! Insomma, io non sono più capace di uscire da qui Oh! Oh! No! No! Ah! Meno male, ecco qua, ce l'ho fatta! Wow! Oh! Scommetto che se fossi un octopus, cioè un polpo, sarei uscito da lì dentro molto più in fretta perché i polpi hanno otto lunghissime braccia, ovvero tentacoli Wow! Wow! Octopus comincia per O Ehi, per caso voi un'oliva l'avete mai mangiata? Sapete? Ci sono delle olive nere e anche delle olive verdi E olive in inglese comincia per O Poli vuole un cracker? Poli vuole un cracker? Go! Poli vuole un cracker? Poli vuole un cracker? Blippi! Blippi! Sì! Sono un pappagallo! In inglese, parrot Go! 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 Comincia con la lettera P Woohoo! Ehi! Vorrei ringraziarvi per la vostra energia positiva Perché essere positive, positivi, fa molto bene al nostro pianeta Sul serio! È veramente bello avere a che fare con persone molto positive come voi Anche people, persone come positive, sono delle parole che iniziano con la P Wow! E a proposito di uccelli Uno dei miei preferiti in assoluto Ha un ciuffetto sulla testa Già! E fa così Sapete di che uccello parlo? Quell! Cioè la quaglia! Quell! Oh! Sono uccelletti tanto carini E anche molto quiet, silenziosi Già! Vado in giro a correre come una quaglia Wow! Ora sono corso da voi molto quickly Alla svelta, quickly Comincia per Q Già! Q Quanto è buffa questa lettera! Ok! Ricapitoliamo tutte le lettere che abbiamo imparato fino ad adesso A B C D E F G H I J K L M N O P Q Già! Ecco tutte le lettere! Le abbiamo appena ricapitolate! RICAP! Cioè ricapitolare comincia con la lettera R Sì! Ed è questa la prossima lettera! R Ehi! E questo cos'è? Wow! Ve lo dico io! Questa è una rampa! Guardate qua! Ramp Cioè rampa Comincia per R Wow! Venite qua sopra! Wow! Ehi! Vi ricordate questi cubi? Sì! Questo è rosso! Quindi red È fatto di gomma piuma E red Comincia con la lettera R E anche Wow! Rope Corda! Wow! Whee! Wow! Caspita che bello! Rope Red E anche ramp Cominciano tutte per R Su! Venite con me! Wow! Guardate che bello! Avete visto che cosa c'è qui? In inglese questa si chiama swing Sì! Alta lena! E comincia con la lettera S Che guarda caso è la prossima lettera del nostro alfabeto Bene! Allora adesso mi siedo sull'altalena Sedersi Sit! Si parte! Sono pronto! 3 2 1 Wow! Guardate un po' qua! Questo è un trampolino elastico Quindi Trampoline! Ed ecco la prossima lettera La lettera T T come in trampoline Guardate! Sembro anch'io una lettera T Sdraiato così Le mie braccia sono il trattino superiore E le mie gambe Quello inferiore Che gioco Buffo Wow! Siete riusciti a capire qual è l'animale che sto imitando? Sono un T-Rex Adoro i tirannosauri Adesso però sono molto stanco Ho voglia di sdraiarmi un po' qua Mi sento tremendamente Tired Cioè stanco E inizia con la lettera T Va bene Adesso direi che posso rimettermi a giocare Wow! Forza! Venite di qua! Che ve ne pare? Sono diventato un unicorno! Vedete? Sto volando! Sì! Blippi è un unicorno! Unicorn! Che comincia con la lettera U Bene! Ora ricapitoliamo di nuovo tutto Oggi abbiamo imparato A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Yeah! Bravissimi! Bene! Allora abbiamo quasi finito! Ok! La prossima lettera è la lettera V Lo sentite anche voi Questo è il suono di un violino Sì! Violin! Che incomincia per V Il violino è uno strumento musicale Wow! Il suono che produce è meraviglioso! No! Questo non è un bel suono Questo è il verso di un avvoltoio! Vulture, un'altra parola che inizia per V E ora mi alzerò in volo come un avvoltoio! Ea! 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 Wow! Sì! La V mi sembra proprio una bella lettera! Ehi! Guardate come sto camminando! Già! Walk! Walk inizia con la lettera W Adesso sto camminando all'indietro! Wow! Whistle! Ossia fischiare inizia con la lettera W Voi l'avete sentito, vero? Intanto, l'avete sentito poco fa! Il mio fischio! Mi avete sentito fischiare? Adesso sto sussurrando! Beh, non proprio ora! Ma prima! In inglese, Whisper! E Whisper inizia con la lettera W Anche l'oxilofono è uno strumento, sapete? E xylophone comincia per X Eh già! Ehi! Oggi è stato davvero divertente giocare su questi tappeti elastici! Per fortuna qui è impossibile farsi male Perché altrimenti, se ci si rompe un osso C'è bisogno di fare la X-ray! La radiografia e voi l'avete mai fatta? Beh, X-ray inizia con la lettera X! Ehi! Perché siete così lontani? Ehi là! Mi avete sentito urlare a squarciagola da laggiù in fondo? Yell, cioè urlare, inizia con la Y! E adesso guardate questo cubo! Avete visto? È giallo, cioè yellow! Eh sì! E yellow comincia con la lettera Y! Epsilon! Oui! Woohoo! Quella che sto imitando si chiama zebra La zebra che è a strisce bianche e nere E questa parola incomincia con la lettera Z! Sì! Z! E questa è anche l'ultima lettera dell'alfabeto! Woohoo! Un'altra parola che comincia con la lettera Z è Zip Che in inglese vuol dire Correre veloci! Guardate me! Avete visto come sono corso veloce fin laggiù E sono tornato indietro? Wow! Oggi è stato davvero divertente imparare l'alfabeto con voi E ora penso che dovremmo ripetere tutte le lettere che ne fanno parte Siete pronti? A A A C D E F G H I J K L M N O P Q Q R S T U V W W X Y E Z Metà Bene Ben fatto E' stato un vero divertimento imparare tutte quelle lettere con voi Oh bene Oh bene Siamo arrivati alla fine del video Ma se volete vederne degli altri Quello che dovete fare è solo cercare il mio nome Ora lo fate lo spelling con me? B L I P P I Blippi Adesso conoscete di certo quelle lettere Ok Allora alla prossima Ciao 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 Ehi Sono io Blippi E' stato un vero spasso andare in bici con voi Wow Stavo andando molto veloce Perché davvero non stavo più nella pelle Volevo vedervi A volte vado molto lento quando sono stanchissimo Uh Ehi Riuscite a pensare a un animale o una cosa che vada super veloce? Mi piace Ora ci penso anche io Venite Wow Potremmo essere veloci come un rezzo spaziale O come un cavallo È stato divertente fare il cavallo Riuscite a pensare a qualcosa che sia super lento? Ok Continuiamo a pensare Wow Sapete che cosa va molto lenta? La ruota panoramica Uh E Una chiocciola Come sappiamo se una cosa va molto veloce O molto lenta Wow Oh ci sono Cronometriamola Sì Usiamo un orologio per capire quanto ci impiega una cosa ad accadere Conosco il posto perfetto per scoprire insieme a voi Quanto possono andare veloci oppure lente le cose Ci divertiremo un mondo ragazzi Andiamo A chi arriva prima? Ciao Ehi Sono io Blippi Wow Guardate È un parco avventura davvero enorme Sì Bene Sono emozionatissimo perché oggi Al parco avventura nona di Orlando, Florida Saliremo insieme fino lassù in cima Già Ci divertiremo davvero un mondo ragazzi Andiamo Prima di iniziare il percorso Penso proprio che sia una buona idea Studiare tutta l'attrezzatura che useremo E infine fare un po' di pratica Iniziamo da qui Questa è l'imbracatura È importante indossare l'imbracatura Così se durante il percorso Cadete Rimarrete comunque attaccati Wow Che spasso Ok ci mettiamo l'imbracatura come una cintura Infiliamo la gamba sinistra Wow E poi la gamba destra E facciamo il balletto Sì Ottimo lavoro Ora Stringiamo l'imbracatura così Proprio come una cintura Il prossimo dispositivo di sicurezza Che non dobbiamo dimenticare Sono i moschettoni I moschettoni ci aiuteranno ad agganciarci alle corde Sì Prendiamo questo anello E poi facciamo così Già Siamo pronti per iniziare a fare pratica Penso sia ora di iniziare un percorso Sì Wow Quello è proprio alto Penso che sia una buona idea Iniziare da quello che è più basso Poi potremo passare a quello Andiamo Wow Guardate che posto È davvero stupendo Già Ora guardate queste passerelle E che corde Già Sono di colori diversi Sapete di che colore sono queste corde? Già Questa è di colore rosso Abbiamo anche il nero E questo è uno dei miei preferiti Il colore blu Già Uh Tutti questi ostacoli su cui ora dovrò camminare Sembrano un po' traballanti Wow Uh Non importa Noi possiamo usare l'equilibrio Per restare in piedi E non cadere Ok Ora siamo pronti per iniziare il percorso Già Wow Questi sembrano dei fossili Ora provo a camminarci sopra E vediamo come va Sembra davvero divertente Oh Questo si muove tantissimo Adesso proseguiamo Andiamo Alla prossima Wow Questo percorso è super divertente Ehi Siamo stati così bravi Che è arrivato il momento di salire lassù in alto Andiamo Sarà un vero spasso ragazzi Wow Sono davvero esausto Ma anche emozionatissimo Oh Guardate C'è qui un mio grande amico Ehi Jake Ehi Blippi Lo sapete che Jake è un atleta professionista? Già È bravissimo in qualsiasi sport e in altre attività Come in questi percorsi Già Quindi è difficile essere un atleta professionista? Sì Ma è super divertente Che forte Scommetto che tu devi mangiare un sacco di verdure buonissime Le verdure sono importanti Mi piacciono i cavoletti di Bruxelles Oh Dici davvero? Uh È anche il mio piatto preferito Che buoni broccoli! Già Ehi Avete un cibo preferito che vi piace mangiare? Già Sì È proprio buono quello Beh È stato divertentissimo fare il primo percorso Ma penso di essere pronto per fare quello là su in alto Woo Mi sembra un'ottima idea Ho un cronometro Vediamo quanto ci metti Già Questa è un'ottima idea Quindi Jake e io cronometriamo il percorso E vediamo chi vince Sarà una blippitizione Già Ok Chi va per primo? Perché non inizi tu? Ok Non vedo l'ora Vado io per primo Mentre lui cronometra Poi andrà Jake Andiamo! Ciao 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 E vai Ce l'ho fatta Mi sono divertito un mondo Sei stato super veloce Bravo Wow È stato difficile agganciarsi alle diverse parti lassù Perché dovevo stare in equilibrio È stato un vero spasso Mi sembra di avere fatto un cerchio Beh In realtà questo percorso non è un cerchio Perché ha sei lati Ehi Sapete come si chiama una forma con sei lati? Già Esatto Si chiama Esegano Woo Beh È stato divertente Ma ora Jake Penso che adesso tocchi a te salire in cima Ok È tuo Ok Ho il cronometro Sei pronto? Partenza E vai Non vedo l'ora di scoprire quanto ci metterà a fare il percorso È stato un bel piano No vedo l'ora di scoprire quanto ci metterà a fare il percorso Come si chiama una forma con sei lati? Esatto Come si chiama una forma con sei lati? È stato un bel piano che mi ha fatto un percorso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei proprio veloce. È perché sei un atleta professionista e ti alleni anche molto. Bravissimo, sei il vincitore! Già! Ciao, Jake! Ciao, Blippi! Ho un'idea fantastica. Che ne dite se facciamo una gara? Ok! Fate partire il tempo sull'orologio! Andiamo! Ehi, sono qui! Ciao! Sono qua! Sono qua su! Ciao! Mi avete trovato! Ok, andiamo giù per lo scivolo! Oh, mi avete battuto! È stato divertente! Oh, avete fatto un ottimo lavoro! Oh, guardate qui! Ehi! Vedete che cosa dice? Angolo della curiosità! Sembra che sia l'ora dell'angolo della curiosità! Già! Non sto più nella pelle! È super divertente! Non vedo l'ora di scoprire che cosa costruiremo insieme! Oh, guardate! L'orologio! Ehi! Scommetto che costruiremo un orologio insieme! Già! Dai, iniziamo! Andiamo! Oh, guardate! Siamo qui all'angolo della curiosità! Sembra che costruiremo un fantastico orologio! Ok, cosa ci vuole per fare un orologio? Ci sono! Un cerchio! Wow! Ecco, questo piatto di carta può farci da cerchio! Ok! E... Ci servirà una penna perché gli orologi hanno i numeri! Sì! Hm! Dodici numeri! Per prima cosa, ora scriviamo alcuni numeri! Un buon modo per scrivere i numeri così che siano al posto giusto è iniziare dall'alto! In alto c'è il numero... Ecco! Il numero dodici! E in basso c'è il numero... Ecco! Il numero sei! Uh! E poi, a destra abbiamo... Il numero... Il bel numero tre! E a sinistra abbiamo... Il numero nove! Beh, ci sono un po' più di numeri! Ora quindi scrivo gli altri! Guardate! Abbiamo tutti i numeri dell'orologio! Sì! Sì! Penso però che manchi qualcosa... Abbiamo i numeri! Ma che cos'è che segna le ore? Già, le lancette! Già, le lancette! Ogni orologio ne ha due e qui abbiamo della bellissima carta! Due bei colori! Arancio e blu! E ora dobbiamo solo... Ritagliare... Due freccette! Ok, prendiamo le nostre freccette e le mettiamo sull'orologio! Poi, fissiamole con la puntina! Abbiamo finito l'orologio! Vediamo se leggiamo l'ora! Beh, ecco la lancetta piccola e la grossa! Se sono le tre, dove saranno? Già, proprio qua! La piccola è sul tre! E se sono le sei, vediamo! Quella piccola la muoviamo di nuovo! È sul sei! Mi chiedo come siano le ore nove! Wow! Sì, perfetto! Le nove sono così! Quella piccola è sul nove! Quella grossa è sul dodici! È stato divertente leggere l'ora con voi! Già! Ciao! Questi cerchi hanno la stessa forma di un orologio e mi hanno fatto venire un'idea! Andiamo! Penso che dovremmo fare un divertentissimo balletto insieme! Useremo l'orologio con il suo TikTok come ritmo! E sarà davvero forte! E le lancette dell'orologio? Uh! Come passi di danza! Già! Ok, prima mossa! Mettiamo le braccia in questo modo! Tre in punto! Le spostiamo così sulle... Sei! Poi torniamo sulle tre! E poi sulle ore nove! Il secondo passaggio è divertirsi un mondo e fare i pazzarelli! Non vedo l'ora di ballare insieme a voi! Andiamo! Vieni qui e balliamo il TikTok rock! Balla insieme a me ancora un po'! Vieni qui e balliamo il TikTok rock! Balla insieme a me ancora un po'! Ehi! Che ora è? Tre in punto! Sei in punto! Nove in punto! Mezzanotte! Cucù! Mezzanotte! Cucù! Mezzanotte! Cucù! Più veloce! Tic-ti, tic-ti-toc! Balliamo ancora un po'! Tic-ti, tic-ti, toc! Balliamo il TikTok rock! Tic-ti, tic-ti, toc! Balliamo ancora un po'! Tic-ti, tic-ti, toc! Balliamo il TikTok rock! Tic-toc! Tic-toc! Sì! Mi sono divertito un mondo insieme a voi Quante belle cose abbiamo imparato Che andare lentamente significa che ci vorrà moltissimo tempo E andare velocemente che non ci vorrà tanto tempo È stato anche divertente conoscere l'ora e gli orologi E vedere che hanno due lancette e dodici numeri Già! Bene, siamo arrivati alla fine del video Ma se volete vedere ancora altri video Quello che dovete fare è cercare il mio nome Ehi, volete fare lo spelling con me? Già! B-L-I-P-P-I Blippi! Ben fatto! Beh, a prestissimo! Vado a giocare tra le palline! Ciao! B-L-I-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P